La coppia che inizia la rianimazione, ho parlato con un parente perché uno è ancora in coma e anche l'altro è stato sedato e ogni tanto la mia sigla ha un po' di lucidità, però non sono in pericolo di vita, quello che dicono. Ho visto poi la figlia e il papà della signora Carla che è morta, tra l'altro il papà è molto coraggioso, anche lui mi ha invitato a fare una preghiera insieme, avevano anche tanti parenti o amici insieme a fare una preghiera per la figlia, per la moglie morta e così via. E' stato anche bello, positivo, penso che può essere un segno positivo per loro. L'altro signore che ha perso la gamba, l'ho trovato abbastanza tranquillo, che mi sembra abbia superato un po' anche questo shock, che dice che nel peggio mi è andato ancora bene.